Il mare si è riempito di albe Anche di una miriade di ossi di sedia Nicole prova ad aprire l'uomo di sedia Eccola, brava Non muove, non si muove Aspetta, non muove, non so di altro Alem, provaci pure tu Ecco, ecco, guarda come si muove questa Brava Mia figlia ha deciso di liberarle tutte Una a una, davanti solo Liberare tutti quanti Sta benissimo sulla spiaggia Grazie a tutti Grazie a tutti